Elettra, ma tu hai capito lo scherzo, no? Nel senso che dove è andata? Sì, all'inizio, quando è venuto fuori la censura, non ho capito una mizzeca, però poi ho capito perfettamente. Cioè, cosa avveniva durante la censura, secondo te? Eh, non lo so, perché il deep web, queste cose qua, io non è che... No, ma è dopo che è venuto. No, ma quando c'era la censura e si sentiva... Ah, cosa accadeva, secondo te? Facevano un pem-pem. Pem-pem, brava! Grazie a tutti.